il tempo non promette niente di buono vero ma da noi la cosa più di tanto non interessa perché a noi interessa per esempio il gelato buono da mangiare anche in questi giorni tanto per illuderci che arriva il tempo buono, arriva l'estate, arriva la primavera ma il gelato che sia buono mi raccomando eh non sapete dove trovarlo ma come noi ve lo diciamo sempre ebbene ve lo ripeto anche per questa volta Garden Bar Gelateria di Sportoloni Renzo in via Tartarola a Monte Pescone dove trovate oltre al classico cono col gelato buonissimo tra l'altro genuino anche delle coppe fantasiose e di tantissimi gusti veramente incredibile poi ci sono anche le solite cose frappè, cioccolata calda con panno, frullati e tanti stuzzichini dolci e salati ma veramente gustosissime tutto quanto poi naturalmente è un punto di ritrovo per fare quattro chiacchiere sul locale nuovo, completamente rinnovato con una nuova gestione in via a Verenzara 18 a Monte Pescone Grazie a tutti